Una piccola novità ci sarà alla fine dell'anno, se posso dirla, la famosa serie alternativa di Martin Mister, su cui non aggiungo altro, perché dovrà essere una sorpresa, sarà penso annunciata su questo palco, l'anno letto, lo fai supposo. Sarà una cosa abbastanza curiosa e interessante, e poi nuova, soprattutto perché non la scriverò io, io la coordino solamente, e quindi ci saranno 50 anni di lavoro buttati dentro, ci sarà un'altra cosa che credo di non poter dire, perché non è stata detta prima, però ci sarà un'altra cosa, esatto, abbastanza importante, e forse anche una terza cosa, se tutto andrà bene, beh no, però la posso dire, se forse può anche darsi che si riprenda una terza o quarta serie, Martin Misteri è una cosa che già esiste, quindi si vede da 12 anni.